Sì, ciao, guarda sono arrivato adesso, sono davanti a quello... ah lì si è attraversando adesso? Sì, sì, però l'ho attraversato adesso. Ho visto, ho visto, quello che ci ha fatto ciao, o è questo? No, quello che ho prima... no, quello che ho prima, no, quello che ho non provo più. Filippo, Filippo, ciao Filippo! Buongiorno, stai con me? Sì, putto tutto questo che ho avuto, non lo prenderemo. Ah, che c'è? Adesso non c'è nessuno. Ciao! 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 Ciao!